Buongiorno a tutti, mi chiamo Rino Di Tardizi e dipingo. Dipingo, si può dire da quando sono nato, però non è stato possibile campare con la pittura e di conseguenza ho dovuto fare un altro mestiere molto bello che è l'allestitore vetrinista. Dopo aver abbandonato questo mestiere per questioni di età, mi sono dedicato completamente alla pittura e oggi dopo diverse evoluzioni del mio stile sono arrivato a questo genere che io lo definisco un astratto figurativo. È una pittura piena di colori, molto positiva perché vedo la vita molto positiva e di conseguenza i miei colori rispecchiano tutto ciò. Quest'opera si intitola Passeggiando nel Verde. Quest'idea mi è venuta in mente guardando un filmato su Geo, sul Terzo, sul Rai Trent, dove c'era questa fattoria e questo gruppo di Occhie che sta ammazzando. E mi è piaciuto tanto vedere questo assembramento di queste bianetti, mi ha messo molta allegria. Allora ho pensato di trasferirlo sulla tela con i miei direttoli e continu Emmanuel. Dio e Noテra. Ciao! 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 Ciao sä Grazie a tutti